Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siamo qui per le probabili formazioni di Sassuolo Juventus a sfida del Mappei Stadium che può valere tantissimo e dunque partiamo dalla prima certezza, non c'è quadrato, anzi io lo metto vrioni per il momento ma adesso andiamo subito a mettere Alexandro perché è sicuro secondo me che sia questa la coppia di Terzini, Danilo a destra e Alexandro a sinistra, qui da Buffon in porta ma è sicuramente Shesny quindi Shesny in porta, Alexandro, Bonucci, De Ligt e Danilo, questa è la linea difensiva, non si scappa, linea di centrocampo secondo me sarà esattamente questa, Pjanic, Mentancur, Rabiot, non credo che verrà riproposta ancora la coppia Matuidi e Rabiot anche se mi incuriosisce, anzi facciamo così, mettiamola perché a me incuriosisce tantissimo vedere questa coppia con una squadra meno in forma dell'Atalanta perché è facile parlare così quando giochi contro una squadra che corre come l'Atalanta e che riesce, che è in uno stato di forma strepitoso, vediamo appunto come invece potrebbe mettersi questo centrocampo qua con una, non contro lo Sassuolo perché Sassuolo è scarso ma sicuramente meno dotato di quanto è dotata l'Atalanta. Il tridente ovviamente Ronaldo Di Bala Bernardeschi, secondo me da questo non si scappa anche perché ve lo faccio vedere spesso noi ci troviamo così che alla fine è un 4-4-2 e l'unico esterno che abbiamo che è capace di fare questo è Bernardeschi, cioè al di là di varie cose è Bernardeschi. Può essere criticato quanto volete ma Matuidi e Bernardeschi sono gli unici che fanno benissimo questo lavoro, tra l'altro credo che Matuidi sia stato massacrato dopo l'Atalanta per me era stato uno dei migliori. Quindi questa ragazzi è la formazione della Juve. Scesni, Danilo, Mattis, De Ligt, Bonucci, Alessandro, Matuidi, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Di Bala e Ronaldo con ovviamente le mosse, quella più classica che è questa, Douglas Costa per Bernardeschi inizio secondo tempo, che possono rompere la partita in due. Attenzione anche a questo cambio sperando che Aaron Ramsey riesca finalmente a sbloccarsi perché non mi dà la sensazione che sia in un momento di forma molto importante. Ragazzi chiudo qua il video, mi mando like a questo video e ci vediamo domani per il post partita di Sassuolo Juventus da Mapes Stadium. Ciao a tutti ragazzi!